Eccoci Gravion, grande partita anche per Gravion questa sera, giocatore che sta facendo un grandissimo campionato e che è già finito sul taccuino di direttori sportivi di squadre di Serie A. Abbiamo fatto una grandissima partita, siamo stati sul pezzo del primo fino all'ultimo, bisogna continuare così perché siamo veramente in alto e domenica c'è un'altra partita importante, uno scontro di diretta importante e bisogna far bene. Sei finito sul taccuino, ti dicevo, di diversi direttori sportivi di squadre di Serie A. Sinceramente mi fa piacere che sono finito nel taccuino di diverse squadre, però ti dico che quest'anno penso più a una partita dopo l'altra e penso a far bene, poi mi fa piacere di niente. Partiamo dal gol del 2-0, calcio d'angolo di Ledian, Memuschei, tu ti sei inserito con i tempi giusti, com'è colpito quel pallone? Raccontaci un po', dai, sei sincero tanto lo so. Ho colpito col ginocchio. E la palla però andata dove doveva? Eh sì. E l'esultanza qual è stata? Sempre quella e non cambierà mai. Ok, perfetto. Ti chiedo, rifacendomi anche la domanda delle colleghe, io invece ti chiedo, c'eravamo sentiti un mese fa, più o meno mi avevi raccontato di un sogno chiamato nazionale. Ti è arrivata qualche telefonata in questo mese? No, non mi è arrivato niente, però un giorno arriverà. Parliamo un attimo di questa partita che si è chiusa non bene ma benissimo, ma che si era complicata, che vi eravate un po' complicati da soli con il gol del 2-1 subito sul finale di primo tempo, poi il 2-2 di Tabanelli, poi questa doppia espulsione in Casalecce. Ma nonostante l'11 contro 9 avete sofferto, avete avuto problemi a superare la difesa del Lecce, come mai? Sì, sono stati bravissimi in difesa anche i nostri giocatori in campo, però noi non abbiamo molato niente, abbiamo continuato fino alla fine. È entrato benissimo Nando, ci ha fatto due gol e ci ha fatto vincere la partita, quindi siamo tutti contenti e dobbiamo continuare a fare così fino alla fine. Ti chiedo una cosa sul gol del 2-1, perché probabilmente sei stato un po' troppo lezioso al rilanciare via il pallone ed è nata la punizione sulla pressione del Palermo? Di certa, ho sbagliato il lancio, però sono cose che si devono migliorare nell'allenamento. Ti sei fatto perdonare bene. Vabbè, sì, però dobbiamo continuare a fare così e non molare niente. Una grande serata anche per merito di questi tifosi che vi hanno trascinato alla vittoria, vi hanno incitato dal primo al novantesimo, vi hanno chiamato sotto la curva dopo il tripice fischio finale di Di Paolo, pubblico che state riconquistando pian piano. Sì, sì, io sono molto contento perché questo è il mio primo anno a pescare, è veramente una curva eccezionale, cioè pienissima. Oggi non ci credevo, sono molto contento di come si stanno comportando con noi e noi ripaghiamo il prezzo vincendo le partite e facendo bene sul campo. Ti chiedo un'ultima cosa, Endrio, tu sei andato dall'Inter al Benevento, poi ti ha preso il Pescara stagione in corso lo scorso anno. Quest'anno sei diventato insostituibile perché al di là delle frasi di circostanza, Pillon a te non rinuncia mai. Come è cresciuto Endrio Gravillon? Io sono cresciuto con il lavoro, mi sono detto se quest'anno provo a fare il mio possibile, ogni partita dove ho partito provo a far bene e ci penso solo una dopo l'altra. Non penso a fare qualsiasi cosa o qualsiasi cosa di più, penso più a vincere una partita, poi un'altra e poi un'altra e così mi aiuto a far meglio. Una partita dopo l'altra, domenica giocherete a Palermo, la sfida più importante di questa prima parte di campionato, prima contro seconda. Sì, domenica è veramente una grande partita, dobbiamo essere concentrati e essere come oggi fino alla fine.